E caccia al paziente zero, il primo, quello da cui è partito tutto in Veneto. L'epicentro è Voe Euganeo, ma il paziente zero potrebbe arrivare da altre zone, forse dal paese vicino, confinante, forse viene dal Vicentino, forse viene dal Bettone. Nelle ultime ore potrebbe esserci la svolta nell'individuazione del paziente zero. Un agricoltore sessantenne è stato portato dal 118 a fare il tampone in ospedale a Padova. Ha una forte tosse e sintomi compatibili con il coronavirus. Non solo, nelle scorse settimane sarebbe stato a Codogno e in altri centri dell'Odigiano, focolaio del virus in Lombardia. E per di più, sarebbe un frequentatore dei bar del suo paese, al Bettone, e di quelli del vicino Voe Euganeo. Dati che, se fossero confermati, rappresenterebbero una pista da seguire attentamente fino in fondo per capire se questo sessantenne sia o non sia il paziente zero. Il primo step è sicuramente il test da coronavirus, tuttora in corso. Nelle prossime ore si saprà se è o non è negativo.